nessun altro avrebbe potuto allora fare un'operazione di questo tipo nessun altro avrebbe potuto farlo perché nessun rimatore aveva gli strumenti culturali necessari per tentare un'impresa di questo tipo lo può fare petrarca solo lui e petrarca lo può fare perché petrarca è un umanista questa raccolta di poesie liriche sotto forma di libro è per lui il modo di riproporre in ambito volgare niente meno che ciò che avevano fatto i grandi poeti latini da catullo a orazio a propersi e vedremo che non solo la forma la forma letteraria del canzoniere ma anche il significato etico del canzoniere nasce da un retroterra culturale che soltanto un conoscitore della cultura e della letteratura antica poteva possedere infatti in questo libro si innestano si intrecciano spinte culturali che vengono dalla filosofia degli stoici che petrarca conosceva attraverso i latini con altre spinte che vengono dai padri della chiesa in particolare da un grande padre della chiesa particolarmente caro a petrarca cioè sant'agostino che vengono dai padri della chiesa in particolare